Il Voi è più vicino quando sentiamo l'occultamento e allora lui si avvicina a noi, noi allora sentiamo che non capiamo, che non sentiamo, che non sappiamo nulla perché si avvicina, che non entra nei nostri vasi, che non possiamo conoscerlo, ma noi sentiamo che siamo nell'occultamento, non siamo le persone per strada che si trovano nella mancanza di conoscenza. Da noi questo viene riportato nella sensazione che io sono nell'occultamento, nella sensazione dell'impotenza, in una cosa che non viene recepita nei miei vasi. Io ho dei vasi e io non ci recepisco nulla, ma proprio perché il Boreh si rivela e allora io scopro che io non lo potrò realizzare. Cioè ciò che noi chiamiamo occultamento, discesa, caduta, tutti questi stati sono per l'appunto gli stati dove lui è vicino. solo non abbiamo i vasi a realizzarlo, a scoprirlo.